Allora è stata una partita difficile, siamo partite un po' scariche, ma ci ha tenuto a galla la forza che abbiamo avuto in quest'anno e da settembre che puntiamo a questo obiettivo e finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo ritornati in Serie A e il nostro posto quindi siamo state brave tutte, complimenti a tutte e anche l'altra squadra che ci è tenuto molto testa. Per noi questa partita è stata veramente impegnativa, sono contenta che sono entrate comunque tutte le mie compagne, quasi tutte abbiamo segnato, secondo tempo probabilmente siamo state un po' troppo frettolose in attacco, in difesa comunque abbastanza buona e niente, già essere qua e essere arrivati alle semifinali per noi è un grande traguardo quindi oggi era soltanto qualcosa in più da guadagnare, per noi abbiamo vinto per essere arrivati alle finali.